Salve, sono Claudio Bernardo, Grand Hotel Rimini, ristorante La Dolce Vita. Sono qui per presentarvi un piatto che viene da Rimini, quindi da Riviera Adriatica, e l'abbiamo chiamato cappelletto cacio e pesce. In pratica è un cappelletto romagnolo classico, solo che la farcia interna è a base di pesce. Abbiamo preso la triglia dell'Adriatico, degli scampi, ricotta e un pecorino di fossa. Questo cappelletto viene cucinato in acqua, amantecato leggermente, dopodiché viene servito al piatto con una salsa al pecorino di fossa. Per completare il piatto andiamo a inserire della polpa di triglia, leggermente scottata e passata sulla piastra, dei cubetti di scappo, olio al timo ed ecco fatto.